Buon pomeriggio a tutti e a tutte da Andrea Cartotto e buon inizio dell'anno scolastico. Primo videocorso del nuovo anno scolastico anche seppur con l'avvento dell'estate insomma i miei videocorsi non si sono fermati. Riflettiamo però quest'oggi ancora in breve su quanto sia importante saper selezionare i contenuti multimediali da usare liberamente per la didattica. E' il caso di questo sito e ora vi mostro sito di riferimento freesoundslibrary.com spelling letterale freesoundslibrary.com In sintesi un archivio correttamente normato cioè con uso legale di suoni in formato mp3 da poter scaricare ed usare liberamente. Nasce questo mio videocorso da una segnalazione dell'amico Albano Battistella anche tramite la sua pagina educativa su Facebook che vi invito a visionare Zorino S Education Italia. Ma veniamo a noi. Come si utilizza questo sito apribile da un qualsiasi browser anche da un dispositivo mobile? Allora in alto in inglese ho le categorie che differenziano i suoni io per esempio prendo Animal Sounds mi viene in mente la scuola dell'infanzia la scuola primaria ma in realtà vedo utilizzi anche per la secondaria volendo magari implementare un elemento audio in un elaborato o in una qualunque realizzazione digitale. Vediamo un pochettino ad esempio single dog, hoof sound, suono di cane ma vi ripeto ci sono suoni di ambiente e numerose altre categorie. Un clic sul triangolo consente naturalmente di ascoltare prima. Ecco ho teso il mio orecchio questo è un suono particolarmente breve io vado a cliccare sia sull'immagine illustrativa del suono che sul link esatto del suono e possiamo osservare come andiamo a rintracciare la durata del suono. In questo caso è un lampo, è velocissimo. Quanto dura? Il peso, 42 kilobyte, un soffio. La qualità del formato mp3 320 kbps. Per darvi un'idea questi sono suoni di ottima qualità perché la media di un brano musicale in mp3 che di solito ne ascoltiamo è di 128. Quindi qui abbiamo anche una buona qualità. Inoltre in basso tasto azzurro download mp3 che ci consente dunque di scaricare il nostro suono. Importante è la licenza d'uso. License. CC sta per Creative Commons, l'alternativa al copyright, una licenza vera. In questo caso licenza attribution, di attribuzione, valevole a livello internazionale, in parole molto povere. Devo utilizzare questo suono ed è gradito, per non dire necessario, che in realtà io metta nella mia sitografia o nei crediti in fondo al mio elaborato elementi multimediali oppure suoni tratti da Free Sounds Library. Semplicemente. Andiamo a scaricare. Un clic sul tastone Download mp3. Io vado a scaricare nella mia cartella dei download nella quale ho predisposto per ordine una sottocartella che ho chiamato suoni. Vedete che il suono viene scaricato in formato compresso, cioè zip. Nessuna difficoltà. Ora vi mostro come procediamo. Un clic su salva. Ora sotto il mio faccione, che vado a spostare brevemente, appare in Google Chrome, mio browser, il file appena scaricato. Clicco sulla freccina e vado a selezionare con tasto sinistro mostra nella cartella. Guardate. Allora, Windows Sistema Operativo apre comunque di suo i file compressi. Ma è possibile anche utilizzare, come faccio io, un ottimo programma gratuito, legale ed open source 7-zip, che apre con un doppio clic oppure con il tasto destro del mouse qualunque file compresso. Eccoci qua. Vedete? Noi abbiamo il file mp3, che è il nostro suono vero, che con un clic tasto sinistro, premuto, vado a trascinare nella mia cartella. È pronto all'uso. Vi voglio però mostrare come sia utile da leggere anche questo file accanto, che si chiama read, cioè leggimi. A volte si chiama anche readme. Io vado a fare doppio clic, vi mostro che cos'è. Questo è il testo esplicativo della licenza. Vedete? Licenza di attribuzione 4.0 internazionale. Sei autorizzato a usare questi effetti sonori, royalty free, liberi da licenza, insomma da diritti per intenderci, nei progetti multimediali per uso commerciale o non. Ecco perché è importante, ce lo ricordiamo, trovate anche qui sul mio canale YouTube Trainer Andrea, videocorsi sullo stesso tema, è importante la ricerca attiva delle fonti, cioè fare e mostrare ai nostri alunni come andare a ricercare e selezionare quei contenuti multimediali idonei ad essere impiegati nella didattica senza nuocere a nessuno o senza appropriarci di qualcosa che non sia nostro. Un caro saluto dunque, ancora buon anno scolastico, anno scolastico diciamo in salita, ma in realtà con la scuola che resta e dovrà restare baluardo educativo di ogni società che si voglia definire civile. Vi do già appuntamento al prossimo videocorso. Ciao!